Una di voi c'è la casa, piuttosto che è sul letto, trovate quella struttura, chiediamo un po' le assi, in realtà sono delle doghe, delle doghe sul letto. Quindi vi lascio un po' esplorare questa casa e magari troverete anche dei messi uomini che avrete attualmente in casa. Sicuramente. Anche quella casa banca in realtà è un omoglio, è un armadio, non è una propria casa banca, è un pass e il designer ha potuto utilizzare questo corpo a frutta che si vuota da anche come il metodo di acqua.